Quest'oggi si celebra la festa della cattedra di San Pietro Apostolo. Ora la parola cattedra ci rimanda al contesto scolastico, l'insegnante sta in cattedra perché da lì insegna. Questa parola ci rimanda anche però alla cattedrale, che si chiama per l'appunto così in quanto in essa vi è la cattedra, cioè la sedia dove siede il vescovo e dal quale ci insegna, ci trasmette il Vangelo. Il Vangelo di oggi ci presenta per l'appunto Gesù che affida a Pietro la missione di pastore di guida, è lui il primo apostolo ad essere mandato per annunciare il Vangelo, la prima pietra dalla quale prende corpo poi la chiesa. Ma facciamo attenzione, l'insegnamento non è solo qualcosa che spetta ai vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi o agli insegnanti, ma a tutti, tutti siamo chiamati ad insegnare, chi più chi meno. Per questo mi invito a guardare alla prima lettura dove a scrivere è proprio Pietro ed in particolare a queste parole che dice, pascete il greggio di Dio che vi ha affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli per il greggio, modelli del greggio. A ciascuno di noi è affidato un greggio, un tot di persone, non importa quante, non importa quanto è grande questo greggio, se è grande, piccolo, ma ognuno ha delle persone delle quali prendersi cura in famiglia, sul lavoro, per esempio nel volontariato. E Pietro ci ricorda che oltre a ciò che diciamo conta anche l'esempio. Insegnare non vuol dire dire solo cose, ma anche dare l'esempio. Le parole buone che pronunciamo hanno sicuramente un effetto benefico sugli altri, ma a queste deve corrispondere anche un sano esempio, non dimentichiamocelo. Non si tratta di essere dei mostri di perfezione, come ricordavo anche l'altro giorno, o di coerenza, perché nessuno può esserlo, nessuno è coerente, chi pretende di esserlo diventa davvero insopportabile, oltre che ridicolo. Ma si tratta di ricordarci che noi non parliamo solo con la bocca, ma anche con i gesti, per cui dobbiamo essere attenti a questo. Noi non insegniamo solo con ciò che diciamo, ma anche con i gesti che compiamo. Buona giornata.